gentili telespettatori buona giornata retromarcia e riretromarcia nel senso in che senso allora avevano detto tre giorni fa che le bollette sarebbero salite del 5 per cento io mi sono subito domandato ma com'è possibile se il gas è sceso del 70 per cento dal picco più alto vuol dire che ancora più alto di un mese fa anche se è sceso del 70 per cento dal picco più alto gaspiterina c'è un aumento del 5 per cento 5 per cento non del 78 80 per cento come dicevano un aumento del 5 per cento vabbè poi oggi cioè ieri dicono no 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 anzi ci sarà una discesa del 6 per cento a oggi no 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 non è non 6 per cento del 13 per cento a e caspiterina da più 5 a meno 13 c'è una differenza di oltre il 18 per cento caspiterina perché nel primo sem nel primo trimestre del 2022 il gas aveva raggiunto dei picchi spaventosi poi c'è stato il secondo terzo semestre ottobre con una flessione notevole così le bollette del gas finalmente scendono le nuove tariffe annunciate prevedono un calo del 13 per cento rispetto a quelle in vigore nel terzo trimestre del 2022 lo ha annunciato l'autorità presieduta da stefano besseghini si tratta della tariffa valida per il mercato tutelato solo per il mese di ottobre visto che il nuovo metodo di calcolo introdotto dall'autorità di regolazione per l'energia reti ambiente introdotto per il quarto trimestre di quest'anno prevede una tariffazione mensile anziché trimestrale basata sui prezzi reali del gas sul mercato italiano psv di ottobre quindi sul costo reale della materia prima e non sulle stime del costo basate sull'andamento dei contratti future sul mercato europeo tetf metodo che ha preso a riferimento fino al terzo trimestre del 2022 il gas e che valuta tuttora che vale tuttora per l'elettricità dice questo besseghini non abbassiamo la guardia i valori rimangono molto alti rispetto al passato e determineranno bollette più impegnative con il crescere dei consumi della stagione invernale con prezzi che sono previsti in risalita per la maggiore domanda in questo momento non c'è domanda perché c'è ancora caldo i riscaldamenti non sono stati accesi e ci sono le riserve strategiche italiane anche europee piene e così il prezzo del gas scende ma dicono attenzione scende perché proprio perché non c'è domanda c'è poca domanda in questo momento ma se all'improvviso arriva il freddo e la domanda si impenna allora si impenneranno di nuovo anche i prezzi che sono già molto alti quindi dicono beh insomma va bene che scendono però attenzione perché potrebbero ricominciare a salire anzi siamo in un momento molto particolare dopo le oscillazioni in salita in discesa potrebbero potrebbero aumentare quindi delle oscillazioni anomale sia in salita che in discesa che portano magari a dei prezzi che a volte sembrano ingiustificati e ingiustificabili ma andiamo a vedere andiamo a vedere che altre notizie c'è la bozza del decreto legge sulle misure covid sulla stretta sui benefici penitenziari però abbiamo visto che probabilmente non ci sarà quella cancellazione delle multe che di cui si parlava in questi giorni le multe per gli per chi ha più di 50 anni non si era chi aveva più di 50 anni non si era non si era vaccinato intanto andiamo a vedere che per quanto riguarda twitter manda a casa d'altra licenza tra il 25 e il 50 per cento del personale perché la gran parte del personale erano persone lavoratori che dovevano valutare e fare i censori la censura la censura di twitter verso argomenti o cose che tu secondo loro non puoi dire neanche pensare la censura moderna politicamente corretto mas che compra twitter proprio per tentare di rendere il social libero da censura da politicamente corretto un social dove si possa esprimere la propria opinione senza ricevere una cento una censura da questo da questa azienda privata dice io me la compro così tolgo la censura visto che la gran parte dei dipendenti erano censori moderni moralizzatori del social verranno licenziati perché su twitter probabilmente verrà quasi completamente tolta questa figura che magari rimarrà per valutare delle cose gravi ma non hai detto quella parola adesso ti cancello davvero sì ovviamente hai detto quella parola che non dovevi dire stai parlando di un argomento che è bandito come bandito ci sono argomenti banditi sì i nuovi censori il politicamente corretto bandiscono degli argomenti di cui tu non puoi esprimere nessun tipo di opinione né a favore né contro una certa cosa proprio non li devi manco nominare non li devi manco nominare perché solo nominarli comporta la chiusura di twitter del tuo ecco ecco stessa cosa che c'è su su facebook stessa cosa che c'è su facebook per esempio io ho quando scrivevo su un giornale ogni domenica pubblicavo anche degli articoli di storia articolo di storia che parlavano anche delle dittature degli anni venti del secolo scorso in italia in europa voi non ci crederete ma articoli di storia quindi non apologie di niente ma articoli di storia scritti sul principale giornale dello stato facebook me li ha cancellati dicendo mi stai anche attento ma proprio così è stai attento a non rifare queste cose perché ti cancelliamo completamente da facebook io dicevo ma che cosa avrei fatto avevo pubblicato la fotografia del mio articolo sul giornale e anche scritto poi pubblicato anche l'articolo per intero ma un articolo di storia attenzione un articolo di storia dove io avevo messo la foto del dittatore che non l'avessi mai fatto mettere la foto di un dittatore su facebook non si può e voi direte perché 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 non si può perché facebook ha deciso che ci sono cose che tu non devi neanche pensare di fare si chiama censura censura fatta da un'azienda privata che decide le regole del parlare comune delle reprime le opinioni ecco grazie a tutti e buon proseguimento di giornata